Ha realizzato le prime sculture con i propri capelli all'età di 16 anni dopo aver visto alcune foto d'archivio di donne ivoriane nel periodo precoloniale. La 26enne Letizia Key, attivista femminista, è in mostra alla List & Gallery di Arezzo con Empow Hair. Un ciclo di opere fotografiche e una serie di dipinti realizzati dall'artista africana compongono l'esposizione curata da Alessandro Romanini. È stata inaugurata nella sua versione preview nel giorno della rivendicazione dei diritti delle donne e contro la violenza per le donne e quindi era, diciamo, rispetto alla sua poetica il giorno ideale è stato scelto perché si basa, come è stato visto alla Biennale di Venezia, su questa rivendicazione dei diritti delle donne ma soprattutto anche di una ricerca di identità della donna contemporanea non solo africana ma mondiale. Più che un'artista sono un'attivista, dunque attraverso il mio lavoro rivendico i diritti delle donne e l'identità generale africana. L'arte diventa lo strumento per un'espressione di sicurezza e richiesta di uguaglianza. Il critico Alessandro Romanini ha curato il padiglione della Costa d'Avorio nella 59esima edizione della Biennale di Venezia e l'artista è stata recentemente insignita del Pegaso d'Argento in Consiglio regionale. L'arte incontra la moda nella mostra ospitata ad Arezzo con un'installazione del giovane stilista Marco Rambaldi. La moda con la sua potenza comunicativa negli ultimi anni è diventato un centro importantissimo, un evralgico di promozione artistica e di rivendicazione dei diritti.